Buongiorno, buongiorno! Che si aspetta da oggi? Non lo so, pensavo alla partita di domenica col Milan, oggi ne parliamo dopo. È una giornata più importante, è una giornata comunque importante. Direi che più che importante direi una giornata... Ciao Claudio! Una giornata delicata, particolare, difficile, sicuramente non bellissima. Vediamo. Il diritto d'intesa o non il diritto d'intesa. È gravissimo chiedere di nonna che la Lega non abbia più il diritto d'intesa. È una cosa che non è mai esistita e che non esiste in nessun paese d'Europa. In tutti i paesi d'Europa, in Lega e in Calcio, hanno il diritto d'intesa. Non si capisce come si può auto chiedere che venga tolta. 18-20 è una delle tante cose. Quando non hai più il diritto d'intesa puoi giocare a 20, a 18, a 32. Si può dire che qualcuno può decidere che giocano i biondi invece dei neri, i verdi invece dei bruni. Un po' più non decidi tu. Tu possiedi una cosa e decidi di passarla ad altre. Lo trovo incredibile. Purtroppo hanno spostato la prudienza dal 12 al 19. E quindi ci è arrivata la notizia ieri dalla Spagna che quindi non sarà oggi ma sarà la prossima settimana. Evidentemente le Lugardie non ci sono solo in Italia. Grazie. Grazie.